Le posizioni del Governo in merito al cosiddetto blocco navale a largo delle coste della Libia, anche al fine del contrasto della tratta di esseri umani. Il deputato del Mastro delle Vedove ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Grazie. Presidente, vede Ministro, mentre lei ha faccendato improvvidamente a distribuire 450 milioni per la cooperazione internazionale, il sultano Erdogan dapprima è intervenuto in Siria disarticolando un deliquato equilibrio nel suo più assordante silenzio poi ha proceduto a Cipro entrando nella zona esclusiva economica di una nazione europea esloggiando eni con delle navi militari per poi approdare in Libia marginalizzando lei, marginalizzando l'Italia, divenendo il miglior alleato di al-Sarraji. E nella migliore retorica e nella migliore grammatica ricattatoria di Erdogan oggi sappiamo dai nostri servizi segreti che ci sono 20.000 migranti pronti ad imbarcarsi verso l'Italia ad essere utilizzati come arma di ricatto di mazza nei confronti dell'Italia e dell'Europa. La risposta che lei oggi giornalisticamente sta dando è di una inconsistenza disarmante evocando la favoletta irenica dei ricollocamenti invocando una solidarietà europea che non arriverà mai. E allora la domanda è, ha quando una missione per il blocco navale? Unica risposta seria per disarticolare i trafficanti di esseri umani e quei traffici immondi e immorali. Se le rimane qualche rimasuglio di tempo dalle sue trame notturne in cui pensa a piazzare 70 fedelissimi fra banche, ministeri e uffici popolari noi saremo al suo fianco, al fianco eventualmente di un ministro di urbio degli esseri che vuole contrastare. Il ministro degli appari esteri della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, facoltà di rispondere. Prego. Ringrazio Presidente. Il rafforzamento del ruolo e della coesione dell'Unione Europea sul dossier libico è fondamentale per il nostro interesse nazionale. È quello che abbiamo sempre sostenuto in considerazione dei rischi in tema di sicurezza, traffico di esseri umani, migrazioni e approvvigionamento energetico posti dalla crisi in Libia. L'Italia ha per questo fortemente sostenuto l'istituzione della nuova missione Irini nel Mediterraneo. L'operazione ha come fine prioritario l'attuazione dell'embargo sulle armi verso la Libia imposto dall'ONU utilizzando mezzi aerei, satellitari e marittimi. Gli obiettivi secondari sono quelli di prevenire le importazioni illecite di prodotti petroliferi dalla Libia e di favorire la formazione della Guardia Costiera e della Marina Libica, fornendo sostegni per l'individuazione e il controllo delle reti di traffico di esseri umani. Non si tratta tuttavia di un blocco navale. Il quadro normativo internazionale include il blocco navale tra i metodi di guerra. Quindi il blocco rappresenta una misura adottabile solo nel corso di conflitti armati internazionali. Irini prevede esclusivamente misure selettive, legittime e pienamente rispettose del diritto internazionale, finalizzate a promuovere il ritorno della pace e della sicurezza in Libia. La missione trova la cornice giuridica di riferimento nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nelle Nazioni Unite che dal 2011 hanno riconosciuto la necessità di contrastare i traffici di armi diretti verso la Libia, prevedendo la possibilità di svolgere ispezioni a bordo di navi dove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armamenti da o verso il Paese nordafricano. Come ho già avuto modo di sottolineare qui in Parlamento, l'operazione dovrà essere equilibrata e imparziale, volta a registrare le violazioni dell'embargo commesse da entrambe le parti, apportando così un contributo fondamentale al rispetto dell'embargo ONU e alla cessazione di tutte le interferenze che alimentano pericolosamente il conflitto. Obiettivo ultimo è avere una fotografia realistica delle numerose violazioni in atto in Libia, far cadere il muro dell'ipocrisia colmando il divario tuttoresistente fra la retorica pubblica di alcuni attori regionali e internazionali coinvolti nel conflitto e il loro effettivo comportamento sul terreno che causano l'instabilità in Libia e provocano i flussi migratori. L'Italia, oltre ad assumere la responsabilità del comando della Forza Navale nella fase di lancio dell'operazione, ha confermato l'offerta di assetti per la componente navale e aerea della missione, una fregata e due velivoli, in attesa dell'approvazione della delibera sulle missioni internazionali già all'esame del Parlamento in questi giorni. Noi ci auguriamo che l'operazione possa ricevere contributi adeguati e bilanciati da parte dei nostri partner UE e vengano presto attivate le capacità del centro satellitare dell'Unione Europea, necessarie al monitoraggio dell'intero territorio libico. I Rini, se riuscirà nella sua missione di far rispettare l'embargo, sicuramente contribuirà ad una stabilità della Libia che riuscirà a rallentare, se non affermare, i flussi migratori. Grazie Presidente. A facoltà di replicare il deputato Cirielli, prego. Grazie Signor Presidente e grazie Signor Ministro. Noi non siamo soddisfatti e in maniera molto equilibrata le voglio segnalare che al di là di tutta la vicenda di politica estera che vede esclusa l'Italia da ogni possibilità di influenza per gravi errori dei precedenti governi, ma anche di questo, di fatto la nostra sicurezza nazionale è a rischio con questa possibilità di una nuova ondata migratoria in una nazione già stremata economicamente dalla vicenda dell'epidemia. Il dato specifico che le voglio rappresentare è che il blocco navale diventa un'azione militare se viene svolta in maniera indiscriminata in acque territoriali di uno Stato, se viene fatto verso tutte le navi. Quindi insomma il blocco classico militare navale non è certamente né quello che chiediamo noi né quello ovviamente possibile sulla base delle leggi internazionali. Di fatto la nostra marina, le nostre forze di polizia possono in acqua internazionali bloccare tutte le navi sospette, le navi che non battono una bandiera riconosciuta, le navi che fanno traffico di persone e tratta di persone. E quindi noi potremo agevolmente intervenire e svolgere anche quella che l'Unione Europea aveva previsto come una possibile fase, quella di sequestrare le navi e affondarle. È una questione anche di leggi nazionali, è una forma di sicurezza e di difesa nazionale. Anche l'ONU riconosce il diritto alla legittima difesa. Queste navi mettono a repentaglio la nostra sovranità e possono essere catturate e affondate.